La pista dell'usura è tra quelle più battute nell'ambito dell'indagine dei carabinieri sull'agguato mortale di Camorra in Campania, accaduto da Cerra la sera di San Gennaro. Nel minuto dei sigari il pregiudicato ad Alberto Ignazio Caruso, 57 anni, cognato del boss detenuto Cuono Lombardi. Ma l'attenzione ora si sposta su quello che è accaduto dopo il raid, perché vengono alla luce particolari inquietanti sulla dinamica dei momenti immediatamente successivi all'agguato, vicende che dopo la sparatoria si sentivano raccontare nella zona e che con il passare delle ore hanno trovato conferma ufficiale. Il sequestro di un'ambulanza di passaggio per trasportare subito Caruso al pronto soccorso, mentre il ferito, che era in barella a bordo del veicolo, veniva preso di forza e lasciato in mezzo alla strada. Sulla vicenda gli operatori dell'Asla Napoli 2 e Nord hanno sporto denunce ai carabinieri. Secondo quanto viene riportato nell'esposto, l'intero staff dell'ambulanza del 118, un autista, un medico e un infermiere sarebbe stato minacciato e aggredito da parenti e amici di Caruso, che non avrebbero esitato a cacciare con la forza dall'ambulanza un uomo coinvolto in un incidente stradale per far posto al corpo del loro congiunto rimasto vittima dell'agguato di Camorra.